ok ora facciamo cocco e facciamo night fight ci sono due gemme una cristallo e una reliquia ok vediamo night fight ci sarà del combattimento e ci sarà notte musica ma questo è del primo si è l'ambientazione del primo della prima no la luce la devo correre perchè la luce si spegne dopo un po' allora la gemma la facciamo dopo la gemma di quella speciale non sapevo come dirlo speciale qua anche se non hai il tempo devi andare di fretta la gemma speciale la facciamo dopo qua dobbiamo schivare tutti questi robotini bonus eh anche il bonus c'è la luce a tempo delle nitro ma tutto il posto che c'era le nitro devi mettere proprio in mezzo al percorso speriamo che non ci siano delle casse nella gemma di della morte dopo vai via ti libero le tue sofferenze anche te luce la puoi andartene vediamo eh mancano due casse non le ho mancate ne mancano due non so dove siano queste due casse io provo a fare la gemma di completamento la gemma della morte e vedo se ci sono le castellini può darci che ci sono delle casse lì devo vedere il tempo lo facciamo dopo poi nemmeno qua sopra le casse non le vedo ed ho la gemma ma di casse non ce ne sono ah sono qua le due casse che mancano dovrei tornare indietro spero dopo non ho più il sentiero illuminato dove vado qui c'è un buco e c'è un altro buco vedo pochissimo allora dobbiamo andare qua sopra e poi tornare indietro a meno che non lo facciamo dall'altra parte qua non vedo niente e non vedo niente la gemma ce l'abbiamo quindi ce la facciamo dall'altra parte che ne dite sarebbe un'opzione giusta ok certo che le luce le durano pochissimo ma veramente poco ok ok poi ho fatto un salto al buio mamma mia che paura tutte queste nitro e neanche un bazooka allora devo ricordarmi le due casse qua allora vediamo torniamo indietro ok due casse prese via 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 che c'è il tempo la luce dura pochissimo ma pochissimo dura ok ce l'ho fatta era così da fare meno male ah ce l'ho fatta ah anche la seconda gemme l'abbiamo presa sia in questo livello che nel livello 21 abbiamo preso le due gemme insieme oh l'ho messo un pochino ma finita l'abbiamo fatta ok ora c'è da fare la prova a tempo 1.45 vediamo zaffiro sarà il nostro 1.45 1.45 1.45 1.45 e una maschera perché serve è ok mmm vai No, schivata Lì pensavo di prendere nitro Insanamente Pensavo di non farcela Qui pensavo di prendere il topino Ho rischiato la vita abbastanza Ok, ora passiamo qua in mezzo Fatto 1.26 Quanta era la zafira? 1.28 1.40 1.45 Vabbè, ho fatto un buon tempo Per la zafira Pack attack Lo facevo un crash Andiamo sperando di non metterci troppo Perché se no non riesco a registrarlo Ancora quello dello spazio E vabbè Allora, passiamo in mezzo Quando quelli sceglalgano No, sapete che vi dico Questa qua non la includo Lo tengo per il prossimo episodio Cioè, vabbè Terrei lo stesso per il prossimo episodio Perché vi faccio un livello episodio Però non so se riesco a registrarlo nella 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 PlayStation Perché mi salva solo un'ora Quindi se gioco più di un'ora Non mi registra le prime cose che ho fatto Cioè i primi livelli Il 21 Il 22 Il 23 Il prossimo episodio Faremo il 24 Il 25 Mi dispiace di non poterlo fare adesso Perché Mi andrebbe però Almeno sappiamo cos'è Un livello dello spazio In cui bisogna volare E niente Quindi spero che questi episodi Vi siano piaciuti Io vi invito a fare un like Un commento Per darmi la vostra opinione Iscrivetevi al canale Se ne nuovi Condivideteci Lo potete anche essere E noi ci vediamo Nel prossimo video A presto